Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Diamo insieme uno sguardo alla situazione in Europa per questo martedì. La pressione atmosferica tende a diminuire gradualmente per l'approssimarsi di una perturbazione dal nord atlantico e avremo anche correnti più umide sul Mediterraneo. Entriamo proprio nel particolare della nostra penisola perché come vi anticipavo nubi e piogge sparse che in genere sono deboli al nord est, al centro in Sardegna e poi andranno a estendersi a parte del sud entro fine giornata con un graduale miglioramento al nord ovest. Infatti proprio nel particolare del nord Italia si graduale miglioramento poi entro fine giornata al nord ovest ma al nord est piogge sparse e tempo molto nuvoloso così come sull'Emilia Romagna. Anche al centro sarà una giornata di piogge quindi ombrello da tenere a portata di mano per tutto il giorno così come al sud quando arriverà il fronte si sposterà verso il meridione a partire dalla Campania, il Molise e la Puglia. Meglio in Sicilia per ora è tutto, aggiornamenti sulla nuova app di Trebi Meteo.